Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Il Polesine Come sempre ragazzi inizio il gameplay ricordandovi che se vi può interessare in descrizione ci trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati Vi ricordo anche ragazzi che in descrizione ci trovate i miei canali social ad esempio TikTok, Telegram, Twitch Ultima cosa ragazzi, se vi iscrivete al mio canale YouTube vi ricordo che potete anche attivare le notifiche Così appunto YouTube vi avvisa ogni e qual volta carico un nuovo video sul canale Allora ragazzi dunque abbiamo finito qui con l'avena, ora abbiamo parecchia avena, potrei continuare a farci il solito pane O meglio la farina e poi il pane Perché no? Anche se poi si è ricordato abbassato di brutto il prezzo della farina perché se no poi fare il pane non era tanto utile insomma se no fare il pane Comunque sia, potremmo fare alla fine il pane E vabbè comunque oggi siamo qui più che altro perché cioè nel senso in questo video, no perché pare strano ci siamo qui riuniti Vabbè praticamente oggi ragazzi voglio provare il nuovo DLC che ha rilasciato la Giants L'ultimo DLC Ce l'ho e lo vorrei provare Diciamo che ho intenzione solo di provarlo Quindi prendo qualche attrezzo a noleggio Non mi va di... in genere a me non piace utilizzare il DLC perché poi metti che magari qualche amico non ce l'ha e non può giocare con me Quindi in genere il DLC li provo e poi non li uso più di tanto perché c'ho paura che magari... Non posso giocare con... con chi mi pare no perché non è che tutti insomma ce l'hanno poi Quindi insomma lo andiamo a provare e basta Ci si dà un'occhiatina Tutto lì E... intanto vabbè stavo andando avanti qua sto a fare balle di... Balle di... di che cosa? Di paglia Sto a fare balle di paglia Allora prima di pensare a questo nuovo DLC Beh... ho già un mucchio di balle di paglia però le sto a fa... A parte quello E... avena ne abbiamo un bel po' Direi che quella che abbiamo nel cassone la usiamo per far farina perché tanto già di avena ne ho in abbondanza Ok Allora praticamente il nuovo DLC tratta principalmente il nuovo DLC tratta in pratica falciatrici Falciare insomma falciare erba quindi in pratica paglia cose di questo genere Quindi il nuovo DLC lo andremo un attimo ad utilizzare sul terreno ad erba che abbiamo Solo che al momento l'erba non è del tutto pronta quindi devo far passare una giornata e poi se tutto va bene abbiamo l'erba pronta Quindi in pratica un attimino che finisco quest'ultima striscia devo finire Scarichiamo un attimo la... L'avena e poi possiamo andare avanti E... un attimo Quando... quando... Quando è che devo vendere? Il pane A gennaio Pane gennaio Non è per niente periodo quindi non devo... non devo minimamente considerare il pane Il pane non lo devo minimamente considerare Però è pur vero che sarebbe utile avere un magazzino per il pane Al momento noi abbiamo magazzini Mi pare proprio di no Non abbiamo dei magazzini vero? No In teoria... eh qui Funghi, lana, uova Funghi, lana, uova Eh E poi i funghi Sta cosa dei funghi Sinceramente li potrei mettere in auto vendita i funghi E piuttosto mi conservo il pane I funghi in teoria quant'è che si vendono? A febbraio Ok, ultima balla I funghi I funghi Si vendono a febbraio Quindi No, voglio solo vedere il prezzo dei funghi se varia nel tempo Se no li metto in auto vendita e non ci penso neanche Quattromila, centocinquemila, vabbè Ma sì, mi sa che i funghi li metto in auto vendita Così non mi metto a immagazzinarli per niente Questo è il terreno a erba L'erba sta crescendo Allora, qui famo farina Scarica Questo poi andiamo a pigliare il pane E io dico che i funghi li andiamo a vendere A proposito, ma dov'è che sto a conservare le cose che non mi sto ricordando Ah sì O se no devo prendere un altro magazzino Si, volendo E dove lo metto? Un altro magazzino No, c'è poco spazio Eh, comunque il discorso è quello Che cos'è che produco di più io alla fine però? Le uova non ne faccio tante O se no, sai che ti dico, le uova le conservo qua Tanto non ne famo granché Ne famo così, allora va Facciamo che lasciamo perdere le uova E conserviamo qui il pane Che bene o male mi sa che famo più pane che uova Forse È da provare comunque La lana è importante Quella mi pare che ne famo un bel po' Quindi, dove sta il pane? Conserviamo pane qua Va bene, lasciamo stare i funghi Ok, la lana è lì Latte è qui Macello Devo spostare tutta sta roba Devo spostare a mezzo mondo Allora, comunque sia Vabbè, questo è un nuovo DLC Dunque, devo far crescere l'erba Che non è abbastanza alta Mi sembra Dice pronto per la raccolta Però non mi pare bella matura Io farei passare un'altra giornata Andiamo Così l'erba è un po' più alta E ora vi faccio vedere Tutto quello che c'è nel nuovo DLC Per quanto ne so Ci sono nel nuovo DLC Il DLC 17 nuovi oggetti Il DLC Ufficialmente costa 9,99 euro Ok E mo' vi faccio vedere Allora Andiamo su Mod DLC Eccolo qua Il DLC si chiama Eye and Forage Pack Gli oggetti dovrebbero essere Mi pare 17 Ci abbiamo praticamente Questi primi tre Ah vabbè Questi quattro Sono chiamati in genere Sono tutti trattori In pratica Allora Sì sono trattori D'altronde Ci hanno il tre punti dietro Il tre punti davanti Anche questo Tre punti dietro Allora vi faccio vedere Con più calma Con più calma Allora che poi La marca La marca Reform Metrac H75 Quindi Sicuramente una marca Nuova Senza ombra di dubbio No Ma ci sono anche altre marche Comunque Con questo nuovo DLC Ok 103.000 euro 75 cavalli Che quindi è buono Giusto per fare il lavoro Per falciare Sinceramente Con 100.000 euro Ci prendo forse anche Qualche trattore più buono Non è che ce ne stanno Trattori buoni Con 100.000 euro Comunque anche questo C'ha Questo è praticamente Uguale Questo Solo che pesa di più E c'ha un serbatoio Anche più piccolo Del carburante Isaria Pro Compact Vabbè questo forse Fa parte del DL Questo Questa è una cosa Che penso fa parte Del DLC Precision Farming Comunque in pratica È molto simile A quell'altro Rigitrack Questo qua SKH SK60 Poi c'è Sempre questo Reform Mounti 110 Da 109 cavalli E questo è proprio Un trattore Vero e proprio Alla fine Alla forma Almeno È quella Vabbè Configurazione Ruoto Ovviamente Non c'ha Le gomme strette Questo Poi c'è Quest'altro Sempre Reform Muli T8X Ovviamente Qua dietro Ci possiamo Mettere Due tipi Di cassoni Diversi Abbiamo Vabbè Configurazione Ruoto Ovviamente Configurazione Tettuccio Lampeggiante Se vogliamo Il lampeggiante Il tre punti Di No I tre punti C'è solo davanti Se vogliamo Se no niente Dietro Non si può Mettere E poi Abbiamo I due cassoni Che vanno Per l'appunto Su questo Cassone Ribaltabile Questo è piccolo 2400 litri Oppure Cassone Per le balle È veramente Capacità Piccola Cioè Sinceramente Io questo cassone Lo vedo buono Giusto per Da mangiare Alle galline Però Sinceramente Andare a spendere 130.000 euro Solo per dare Mangiare alle galline È troppo Poi vabbè C'è quest'altro cassone Da 13.000 litri 14.000 litri Credo che questo Va pure A caricare Da terra Questo credo Che raccoglie pure L'erba da terra Cassone da carico Dovrebbe essere Raccoglie erba Paglia e fieno Sinceramente Io A spendere 150.000 euro Per raccogliere Fino a 14.000 Insomma È tutta roba Insomma È tutto buono Per piccoli terreni Alla fine È tutto buono Solo per piccoli terreni Poi abbiamo Addirittura Questo Una falciatrice A mano Oppure Addirittura Ranghinatore Addirittura Pure Ranghinatore Wow Beh io Ma quante Che costa 33.000 euro Mortacci Vabbè Allora Questo lo voglio provare Poi abbiamo Queste Falciatrici Della Sep Knusel Non so come si pronuncia Vabbè Falciatrici Comunque Falciatrici Falciatrice Della crone Ranghin Voltafieno Voltafieno Da 8 metri E 2 Ranghinatore Da 3 metri E mezzo Quindi Il ranghinatore Piccolino Poi abbiamo Un altro Ranghinatore Molto piccolo Da 3 metri Della Reiter Questo è Un altro Ranghinatore Un altro Ranghinatore Sempre della Rater Respiro R7 Larghezza 7 metri Questo è 3 metri R3 R7 I metri R9 Sarà 9 metri E sono tutti Ranghinatori Per questa Attrezza è consigliato Un trattore Con retromarcia Piccolo Non c'è Nei trattori Con retromarcia In sto gioco Che vuol dire Mi pare che tutti I trattori Hanno la retro No Non capisco Forse vuole dire Il trattore Quello che Col sedile Che si gira Boh Comunque Questo è quello Da 9 metri Sempre Ranghinatore Questo è Un altro Ranghinatore Questo molto Grande Da 15 No 14 metri Configurazione Ruota Insomma Roba di abbellimento Ruota di scorta Telo Forma andana Il telo Multitast Multiche Ah vabbè E niente E poi c'è Un Ultima cosa Un cassone Da carico Da 47.000 Molto buono Però devo dire Allora Forse il cassone Da carico È una delle poche cose Che mi piace Veramente Perché 47.000 Di capacità Con 86.000 Euro Forse Forse È un bel prezzo Cassone Da carico Di solito Quanto costano I cassoni Da 47 130.000 130 123 116 Ed è meno capiente Meno capiente Dirò Che forse Il cassone Da carico È una delle poche cose Veramente Che mi sta piacendo Perché C'ha un ottimo prezzo 47.000 A 86.000 Euro Il cassone Da carico È buono Mi piace Richiede 250 Cavalli Però richiede Un mucchio Di cavalli Vabbè Anche questo Richiede 250 Alla fine Il cassone Da carico È molto interessante Il cassone Da carico È interessante Tutto il resto È anche interessante Però chiaramente L'alternativa Nel gioco Non manca È giusto Per avere Una marca Nuova Alla fine Ma Voglio dire Non è che mancano Falciatrici E ranghinatori O voltafieno Nel gioco Secondo me Allora Le cose belle Di questo DLC Ovviamente I trattori Ovviamente Trattori La falciatrice La falciatrice a mano Molto bella E alla fine Il cassone Da carico Mi piace molto Poi alla fine Voltafieno Ranghinatore Voglio dire Cioè La scelta c'è Non è che non c'è La scelta c'è Di base Quindi Non avrei Cioè Non mi manca La scelta base E Quindi Boh Aspetta Facciamo un piccolo prestito Vorrei provare Ovviamente Anche qualcos'altro Vai Spendiamo qualche lira Io prenderei questo Perché Pesa di meno Però forse Se pesa di meno Ha più problemi Forse Allora Prendiamo questo Vai Ok Noleggia Sono 6500 La faccio Do cavolo 6500 E ovviamente Presumo che Cioè Dovrei mettere Qualcosa Davanti Una falciatrice Ma come falciatrice Il DLC Aggiunge Poco Come falciatrice Il DLC Aggiunge Queste 3 1 3 metri 3 metri 3 metri E 2 Boh Pichiamo questa Faccio una prova Ok E E che ne so Boh Che c'è metto dietro Boh Non lo so Questo è interessante Ma sono un mucchio di soldi Per quello che fa Sinceramente Non mi piace Costa una barca De soldi Ma E non ci faccio niente Vabbè E non posso Prendere tutto Ragà Perché sapete Che comunque Questa partita Voglio dire Non è che è una partita Dove ci provo le cose Cioè I soldi Mi servono In questa partita No Quindi Allora Ma questo Come caspita Me lo porto Alla base Lo devo caricare Su un cassone Come me lo porto Se no Lo dovrei caricare Qua Se è possibile Ovviamente Faccio la solita fatica A fare le manovre Speriamo che lo posso caricare Qua Vediamo E quindi Ripeto È un bel DLC Però L'unica cosa Che veramente Mi sta piacendo Molto È il cassone da carico Il cassone da carico È l'unica cosa Veramente bella Che con Con 86.000 Quella capacità Mi piace parecchio Per il resto Ho già tutto Quello che mi serve Per falciare Anzi Anche Cioè Che alla fine Io preferisco Avere falciatrici Più grandi No Perché il DLC Questo DLC È pensato Praticamente Per Per piccoli terreni È tutto pensato Per piccoli terreni Perché diciamoci la verità Con 3 metri Non ce faccio niente Con 3 metri Io che ce devo fa' Alla fine Con 3 metri Non ce faccio niente È troppo poco E Che poi di fatti Bello quello è È proprio La cosa buffa Ragazzi La cosa effettivamente Buffa A me pare Che questo DLC È molto pensato A terreni piccoli No Perché Alla fine Tu vedi Falciatrice piccola Ok C'è anche un ranghinatore Da 12 metri Che è bello grande Ok Cioè Questo DLC Mi sembra molto pensato A terreni piccoli No I trattori Sono piccoli Le falciatrici Sono piccole Quasi tutto È piccolo Poi ti chiedi Perché hanno messo Un cassone da carico Così gigantesco Cioè Effettivamente No Effettivamente Non è un po' Strana la cosa Ti chiedo Boh Non lo so Non ha molto senso Prendere roba Per terreni piccoli E poi un mega cassone da carico Boh O magari potrebbe avere senso Però non lo so Non lo so Ma vabbè Allora No dobbiamo utilizzare Ovviamente Gli animali come stanno Intanto Abbastanza bene Meglio di me Stanno benissimo Passo di qua L'erba Mi pare abbastanza pronta Prima di iniziare A lavorare qua Io voglio Caricare No speriamo che ci va Qui sopra Perché se no Come caspita Te lo porti in giro Sto coso Che è grosso Oh Però è fico eh Ma si può Dispiegare No Come cavolo fai A caricare Sto coso Madonna Sì vabbè Diciamo che Oh non riesco A farla andare Dove cacchio vai No raga Che vedevo Ti va un po' Per i cavoli Sua Vabbè D'altronde Uno se lo chiede Ma Come Come fai a portartelo In giro Questo Perché È largo Non si può Stringere Non puoi neanche Non lo puoi mica Caricare di lato Effettivamente Ci voleva Un carrellino Fatto apposta Per lui Ma c'è No Non qui Eeeh Se io vado Qui Non c'è Combinazioni Quindi non c'è Un carrellino Per lui È scomodo Portassolo in giro Così Vabbè Allora Cosa Devi dispiegare L'attrezzo Mi pare giusto Allora Però Velocità massima 20 km Ehi la miseria 22 Però 22 km Orari 22 Fammi Provare Un attimo Io di solito Cosa uso Per falciare La è Voglio vedere L'altro A quanto va 22 km Orari È una bellissima Velocità Devo dire Ok Ok So curioso Quella 22 Questo Quanto fa Ah ma pure lui Va a 22 Ah Pensavo che di base Poteva andare Più piano Ebbè 22 km Orari 22 km Orari In pratica Raga Niente Allora No Pensavo che Magari era più veloce Dico Caspita Sarà 3 metri Ma se è più veloce È come se fosse più largo Ma non è così Allora Vediamo come Un attimino Scendo questo da qua Perché non gira Eh ma non gira Non andava Né a sinistra Né a destra Oh Ok Ok La città massima Ovviamente Non poteva essere 22 km Orari Ovviamente Non poteva Però È bello Mi piace Ovvio che Non può andare Velocissimo È normale Però è bello Accendiamo Ok La larghezza È buona Quanto è La larghezza Di questo Come Da 2 a 4 metri Ah Da 2 a 4 metri Perché dipende Se lo usi Per ranghinare Se lo usi Per ranghinare È più piccolo Come ranghinatore È più piccolo Come falciatrice È 4 metri E 2 Come ranghinatore 2 metri E 2 Ma che Ce devo Ranghinare Io Vabbè Questo è buono Per terreni Veramente Così piccoli Che l'operaio Non ce lo metterai Mai nella vita Ci posso mettere A proposito Di operaio L'operaio L'operaio Ci si può mettere Mi pare proprio Di no No Non ci si può mettere L'operaio No Peccato L'operaio Non Non Me lo fa mettere Forse Il courseplay Si Ma l'operaio Classico No Però funziona Benissimo Funziona bene Funziona bene Ovviamente Quello fa Molto Più Veloce Anche L'animazione Di come L'erba Viene Tagliata È molto Bello Bello Allora Siamo arrivati In fondo Voglio provare L'altro Ovviamente Alla fine Stiamo giusto A provare Perché ve l'ho detto Alla fine Mi trovo bene Anche senza DLC Non mi manca niente Ovviamente Mi trovo comunque bene Non mi manca nulla Senza DLC Allora Vediamo qua Questo ovviamente È decisamente Più veloce E poi Vabbè Dietro magari Ci collegate Una imballatrice O Non lo so Qualcosa di simile Magari Dietro Una bella Imballatrice E via No Facciamo così Vabbè Alla fine Ci avrò Da arranghinare Perché Boh Forse ci facciamo Insilato Raga Perché alla fine Il fieno Non mi manca L'operaio Dovrebbe funzionare Ovviamente La signorina Qua Lavora A posto E niente Altro da provare Ma non mi va Di provare Il ranghinatore Perché tanto Fanno tutti La stessa Identica cosa Non è che Cioè Alla fine Questo qui Di ranghinatore 92 mila euro Ma mi ricorda Tantissimo Un altro Ranghinatore Che ci assomiglia Di brutto Ranghinatore Alla fine C'è Questo O questo Cioè alla fine Si assomigliano Tutti Pottinger Ma c'è Della cunna Della classe Che so Praticamente Quasi spiaccicati Non è che È tanto diverso Questo è 14 metri E 7 15 metri Questo è 14 metri Eppure più piccolo 92 mila euro Questo qua è 62 mila euro Ed è pure più Ed è pure più largo Arrivato a un certo punto Scusa Non mi piace di più questo Costa Costa Il 30% in meno Ed è pure più largo Non capisco Questo pesa pure 6 tonnellate 4 Questo Cioè alla fine Alla fine Veramente 115 cavalli 6 tonnellate 115 cavalli Pure un po' più pesante 15 chilometri orari 15 chilometri orari Cioè meglio questo Decisamente Costa molto di meno E di base nel gioco Sinceramente Ma sì Vabbè alla fine Il bello del DLC È che Se Vuoi Una marca nuova Allora Sì Te prendi Il DLC Se vuoi le marche Se non ti interessano Le marche Allora di base C'è già tutto L'unica cosa Veramente nuova Del DLC Per quanto mi riguarda Per quanto mi riguarda L'unica vera Cosa nuova Del DLC Sono giusto Questi primi Quattro Diciamo Trattori Ma sì Però alla fine Sinceramente Costano una barca Di soldi C'è di meglio Di base Come cavalli Secondo me 121.000 euro 109 cavalli Ma sinceramente Ce trovo Comunque Ce n'è di alternativa Con 120.000 euro Trattore piccolo Quello è È un trattore piccolo Alla fine No? No? Sì È lui? Sì 121.000 euro 200 cavalli Quasi quasi Qua Cioè Sì A voi Insomma Raga Alla fine Che vi devo dire DLC Bello Però L'alternativa Già gratis Non manca Quindi Che dirvi Il DLC Ve lo posso consigliare Ovviamente Ma se volete Giusto le marche nuove Giusto per quello Perché poi Alla fine Sinceramente Non manca niente Già nel gioco di base Poi con le mod Che sono gratuite La voglia trovarne cose No? Quindi Poi vabbè Ve l'ho detto Mi è piaciuto parecchio Un'altra cosa Che mi è piaciuta parecchio È il Ovviamente Questo Costa poco Costa poco E C'è una bella Capienza Sì È buono Aspetta In realtà Costa 100.0001 euro Perché qua C'è più 15.000 Di Pick up E se non ci metti Il pick up Cioè Se non ci metti Questo qua Che raccoglie Da terra Diventa un cassone Normale Vabbè Insomma 101.000 euro Quindi quasi quasi Anche lui Vabbè Ragazzi Che ve devo dire Che io Me la concludo Il gameplay Me lo concludo Che il tempo È volato via Abbiamo comunque Dato un'occhiata Spero vi sia Piaciuto Il gameplay Ragazzi E che dirvi Ragazzi Come sempre Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione In su Ah beh Ovviamente Anche questo attrezzo Qua È carino Fa parte del DLC È molto carino Però mi pare Che gratis C'era pure Qualche cosa di simile Se non ricordo male Mi pare Che anche di questo Qualche cosa C'era A gratis Mi pare Mi pare Non ne sono sicuro Va bene Ragazzi Io quindi Me la concludo Ragazzi Vi saluto Ci becchiamo presto Ragazzi Ciao Alla prossima Grazie a tutti